La mancanza di neve sull'Appennino è un problema enorme, stazioni scistiche chiuse ma anche l'indotto ne risente per i posti di lavoro attorno a questo comparto, lavoratori costretti a rimanere fermi. In attesa dell'incontro tra l'assessore Damario e il ministro Santanchè, gli appelli alle istituzioni in questi giorni si susseguono. Dopo l'appello dei sindaci arriva anche il grido di dolore di Luigi Faccia, maestro di sci e direttore della scuola Sergi Granzasso, che chiede alla regione dei fondi in bilancio perché purtroppo il loro settore dipende anche dal meteo. La crisi è di tutti, è di tutto l'indotto, delle zone interne, della montagna, la montagna non è solo l'Aquila ma è anche Teramo, è anche Passo Lanciano, quindi è un grido di dolore di tutta la regione. La regione deve prevedere in bilancio ormai un fondo rischi, un fondo rischi che vada a coprire le bizze del tempo. E' giusto anche perché abbiamo visto adesso se si ferma un'attività turistico sportiva si ferma tutto, si ferma l'albergo, si fermano le guide, si fermano i maestri sci, le scuole sci, i negozi, tutto, si ferma tutto. I problemi per la stazione di Campo Imperatore in particolare sono sempre gli stessi, servono le strutture come accade in altre località, c'è la questione dei vincoli. La situazione di Campo Imperatore è quella che siamo stati abbastanza sfortunati perché è mancato quel mezzo grado in meno per poter avere un metro su tutte le piste. Però proprio per questo bisogna un attimino quello che diciamo da sempre, quello che ha intrapreso questa amministrazione è quello di mitigare o spostare i vincoli di Natura 2000 e attrezzare la stazione, ma la stazione non solo per lo sci, perché qui c'è un equivoco di fondo. Fare le attrezzature, fare le telecabine, fare i rifugi, fare i sentieri è per il turismo 360 giorni l'anno, non solo per lo sci. Fare le telecabine, fare i rifugiati, fare i rifugiati, fare i rifugiati, fare i rifugiati.